Il fatto adige rispettare i musulmani non vuol dire dar loro il diritto di costruire moschee. La posizione del partito è stata ribadita oggi in conferenza stampa e attraverso la proposta di una mozione diretta al comune di Bolzano dall'eloquente titolo No alle moschee nei comuni sud tirolesi. La richiesta principale è quella di non concedere aree per l'edilizia destinata al culto, a istituzioni religiose che non siano la chiesa cattolica o altre confessioni che hanno già intese con lo Stato. Grazie.